Tutti i giorni da Casier, comune a pochi chilometri da Treviso, è possibile partire per una gita lungo il fiume Sile, a bordo di una imbarcazione ecologica, in quanto elettrica e per la quale non serve la patente nautica. Abbrichiamo è un sistema di noleggio basato su barche ecologiche e elettriche, quindi non inquinanti, e ha come intento lo sviluppo della navigazione in acqua interna, quindi lago e fiumi, tutto quel turismo che si sta sviluppando sempre di più in questi anni e che credo abbia giusto sfogo in questa struttura. Assolutamente silenziose e non inquinanti sono l'ideale per godersi la natura in tutta tranquillità. L'autonomia di sette ore permette di raggiungere i luoghi che si desidera visitare, indicati nella dettagliata carta di navigazione che viene consegnata al momento della partenza. Da Casier a Porte Grandi, un percorso lungo il Sile per ammirare scorci di natura incontaminata e scoprire le bellezze architettoniche delle ville che si affacciano sul fiume. Il Sile è chiaramente di per sé un parco naturale, quindi c'è di tutto, per di più ci sono costruzioni, le ville che i veneziani costruivano risalendo appunto il fiume. Era un fiume che ha dato lavoro a tanta gente, con barconi che trasportavano merci, sementi e altre cose, e chiaramente un'infinità di specie di natura, da animali a piante e quant'altro. Navigare immersi nella natura, con la possibilità di fermarsi lungo il percorso e scoprire le meraviglie di un ambiente unico all'interno del Parco del Sile. Un viaggio decisamente suggestivo e sostenibile perché si tutela e si rispetta l'ambiente che ci circonda.